Range Rover offre una serie di funzioni per i clienti sensibili alle questioni ambientali. Il sistema Intelligent Stop Start è stato progettato per ridurre le emissioni di CO2 del tubo di scarico e migliorare l'economia dei consumi, grazie all'arresto e al riavvio automatici del motore. Questa guida descrive il funzionamento del sistema Intelligent Stop Start. Il sistema Intelligent Stop Start viene attivato all'inserimento dell'accensione. Quando il veicolo rallenta fino all'arresto da una velocità superiore a 4 km all'ora, il sistema Intelligent Stop Start spegne il motore. Il motore rimane spento mentre il veicolo è fermo e il guidatore lascia il piede sul pedale del freno. Una spia si illumina sul gruppo strumenti per indicare l'arresto del motore. Il sistema riavvia automaticamente il motore quando il guidatore solleva il piede dal pedale del freno. Se a veicolo fermo il selettore rotativo viene spostato sulla posizione di folle N, il sistema Intelligent Stop Start avvia il motore solo se il guidatore seleziona D, marcia, o S, sport, e solleva il piede dal pedale del freno. Il sistema Intelligent Stop Start tiene sotto controllo diverse funzioni del veicolo. Se si verifica una delle seguenti condizioni, il sistema previene l'arresto del motore o, se è spento, lo riavvia automaticamente. Pressione del pedale dell'acceleratore. Selezione di una marcia con le levete del cambio. Selezione della retromarcia R con il selettore rotativo. Il sistema di climatizzazione determina che occorre erogare aria calda o fredda per mantenere invariata la temperatura dell'abitacolo. Il motore non ha ancora raggiunto la temperatura di funzionamento. La cintura di sicurezza del guidatore non è allacciata. Il sistema Intelligent Stop Start può essere disattivato premendo il pulsante Eco sulla console centrale. Una spia si illumina sul gruppo Strumenti per indicare la disattivazione del sistema. Per maggiori informazioni su questa funzione, consultare il manuale dell'utente. Per ulteriore assistenza, contattare il concessionario.